Quanto costa mantenere un Audi RS6 in Italia? Scopriamolo insieme a Benji Car. Per acquistare questo bisonte da 600 cavalli con 0 km, il costo è di circa 136.000 euro. Il bollo scilla tra 1.273 euro e 1.911 euro, in base alla regione. Il Super Bowl invece è di 5.120 euro, costo standard in tutta Italia. E per finire il passaggio di proprietà che è mediamente di 1.866 euro. E tu con questi dati alla mano compreresti mai un RS6 in Italia? Scrivimi nei commenti la prossima auto da recensire e seguimi per altri tips.